Un grosso passo avanti verso la qualificazione questa sera, no? Sì, abbiamo fatto una partita bella, intensa, ci abbiamo creduto dall'inizio e si è visto, noi abbiamo mollato un punto, l'abbiamo aggredita da subito e questi siamo noi. Magari ieri non si era vista la vera squadra, invece oggi abbiamo ci fatto bene e stiamo continuando il nostro percorso, secondo me, nel migliore dei modi. Ora manca l'ultimo sforzo. Sì, infatti sì. Beh, la Slovak è una squadra che abbiamo già incontrato più volte nel corso della nostra storia e quindi più o meno le ragazze sono le stesse, è una squadra che conosciamo, però bisognerà aggredire anche loro da subito perché come noi si giocano il mondiale, quindi vorranno vincere anche perché contro l'Italia giocano tutti bene, quindi noi daremo il massimo sicuramente. Ok, grazie e complimenti. Grazie, ciao.